A Caltanissette alvie i rimborsi per i libri di scuola elementare. Per tornare in possesso dei soldi spesi all'inizio dell'anno scolastico per i libri di testo ministeriali, dalla prima alla quinta, occorre consegnare in libreria o in cartoleria il documento rilasciato dalle stesse in precedenza con lo scontrino fiscale. Rimborsi possibili dopo che la regione ha avviato le relative procedure. Una boccata d'ossigeno per migliaia di famiglie nel capoluogo nisseno. A settembre i genitori si erano trovati alle prese con la sgradita sorpresa di dover anticipare le somme previste per l'acquisto dei libri dei propri figli. Spese non proprio trascurabili, considerato che per un alunno di quinta il rimborso è di 42,90 euro, per uno di quarta 41,75, per uno di terza 26,60, per uno di seconda 19,30, per uno di prima 19,45.